Essere presente anche in questo periodo e dare il nostro contributo, sia per magari andare a supportare l'ASRI in questo periodo difficile, ma soprattutto per formarci e per prendere questa come un'opportunità per la nostra formazione. Sono anche questi i motivi che hanno spinto 45 studenti del corso di laurea in infermieristica a dare una mano nella lotta sempre più dura all'epidemia da Covid-19. Da alcuni giorni i giovani e volenterosi studenti stanno svolgendo il tirocinio formativo presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica di San Cesario per essere in prima fila tra i protagonisti delle attività legate all'emergenza epidemiologica. Da questa settimana abbiamo iniziato questo progetto e stiamo facendo un primo periodo di formazione. Alcuni di noi si stanno formando per il contact tracing, quindi il rintraccio dei contatti positivi, e altri invece per la sorveglianza sanitaria, ovvero andare a monitorare i pazienti già positivi o in isolamento o in quarantena per valutare un po' il loro andamento, eventualmente per notare i tamponi, per poi l'eventuale dimissione o comunque renderci conto di quelli che possono essere le varie problematiche e allertare chi di dovere. Cosa ti aspetti da questa esperienza? Crescere da un punto di vista sia professionale, migliorare sotto tutti i punti di vista, quindi di crescere anche in altri ambiti. Ci sono molti, soprattutto giovani, che giustamente hanno paura del coronavirus. Voi invece scendete in campo. Non c'è soltanto il coronavirus, ci sono tanti altri virus, batteri, che ogni giorno noi, i nostri operatori sanitari, chi sta in ospedale, chi sta in corsia, va a combattere giornalmente. Quindi anche noi nel momento in cui abbiamo fatto questa scelta e siamo presi tutte queste responsabilità.